Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura torniamo a parlare delle elezioni amministrative perché non c'è riposo per i neosindaci eletti nel turno di ballottaggio. Già al lavoro per preparare le nuove giunte dei comuni di Sulmona, Vasto, Lanciano e Roseto e nominare e scegliere i nuovi assessori. Facciamo il punto della situazione in questo servizio. Archiviate le elezioni nei quattro comuni che hanno affrontato i ballottaggi, neosindaci sono già alle prese con la formazione della nuova giunta. A Vasto ieri pomeriggio c'è stata la cerimonia di proclamazione degli eletti e il giuramento del sindaco Francesco Menna, che con i suoi 37 anni è il più giovane primo cittadino della città del Vasto. Per quanto riguarda la giunta poche dovrebbero essere le novità rispetto ai nomi già annunciati prima del voto. Antonio Del Casale, Anna Bosco, Carlo della Penna, Paola Cianci, Luigi Marcello e Gabriele Barisano, con quest'ultimo che però non avrebbe ancora sciolto la riserva. Per quanto riguarda il settimo assessore, Menna ha già dichiarato che sarà una donna, persona di sua fiducia, ma resta l'incognita nome che si saprà solo dopo gli incontri con i partiti. Porta aperta intanto ai 5 Stelle per la presidenza del Consiglio Comunale, ma resta il no dei pentastellati. Vorrò essere il sindaco di tutti, dei comitati, dei quartieri, dei parroci, delle parrocchie, delle associazioni, di tutto ciò che crea valore collettivo. Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ieri mattina, mente fredda, ha analizzato il voto in attesa della proclamazione degli eletti. Per quanto riguarda la formazione della giunta, il primo cittadino si dice sicuro di riuscire in poco tempo a trovare la quadra, formando una squadra di governo composta da almeno tre donne. Rumors vorrebbero l'ingresso in giunta della presidentessa della Virtus Lanciano Valentina Maio, magari con una delega al sociale. Mentre dovrebbe essere confermato vice sindaco Pino Valente, alla sua lista civica potrebbe andare anche la presidenza del Consiglio Comunale. Tra gli assessori sicuri Leo Marongiu, Marusca Miscia e Pasquale Sasso, che dovrebbe essere confermato al pari di Dora Bendotti. In giunta entrerà anche Piero Cotellessa. A Sulmona la nuova giunta Casini sarà resa nota entro una settimana al massimo, assicurato l'assessore regionale Andrea Gerosolimo, Deus Ex Machina della vittoria di Anna Maria Casini, prima donna a capo della città di Ovidio. Però servirà una spartizione delle cariche da Prima Repubblica per tenere unita una coalizione eterogenea. La presidenza del Consiglio ed un assessorato dovrebbero andare a Sulmona al centro, due assessori socialisti, un assessore a Idem Ranagliani ed uno ad Alleanza per Sulmona. Nella città Pellinia ci sarà anche la prima volta di un consigliere di etnia Rom, si tratta di Franco Di Rocco, 22enne studente di medicina. A Roseto sarà una maggioranza monocolore PD con tre liste democratiche a Sopigliatutto con dieci seggi. Mentre Tommaso Ginobli ha convocato i vertici del partito per discutere dei futuri equilibri in provincia di Teramo, Sabatino Di Girolamo, il neosindaco, è già al lavoro per costruire la nuova giunta. Il nodo da sciogliere riguarda soprattutto il ruolo della coalizione civica guidata dalla coppia Sottanelli-Ciancaione. Hashtag Amoroseto ha dichiarato il suo appoggio a Di Girolamo per il secondo turno e chiede almeno un assessorato se non la presidenza del Consiglio. Ma i Dem sembrano storcere il naso anche perché non vincolati da apparentamenti di sorta e forti di una larghissima maggioranza. Di Girolamo però ha lasciato la porta aperta perché si è detto disponibile a trattare per riunificare tutto il centro-sinistra. Andiamo in provincia di Chieti dove il Partito Democratico sottolinea il risultato ottenuto difendendo il comune di Lanciano e riconfermando il sindaco Pupillo e conquistando, anzi riconquistando il comune di Vasto con Francesco Menna. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa per fare il punto della situazione che abbiamo seguito con Francesca Romana Testi. Esulta il PD abruzzese e lo fa sapere. Alla luce dei dati delle elezioni che hanno visto riconfermato chi già c'era e eletto chi si presentava contro formazioni di centro-destra e Movimento 5 Stelle. E allora qualche sassolino dalla scarpa se lo levano anche i rappresentanti del governo d'Alfonso che dicono il centro-destra è stato sconfitto di misura e il Movimento 5 Stelle ha dimostrato difficoltà di radicamento in tutti i comuni d'Abruzzo. Il segretario provinciale Chiara Zappalorto poi dichiara il PD primo partito della provincia di Chieti. In realtà ce l'aspettavamo perché abbiamo messo in campo quel giusto mix di esperienza, di rinnovamento, tanto radicamento e i risultati ci hanno premiato. Premiando anche non solo i sindaci ma anche nelle liste tantissimi giovani, tantissime donne. Per la prima volta ad esempio avremo tre donne vicesindaco in tre comuni, quindi sono dei risultati incredibili di cui siamo orgogliosi. Pensando un po' a quelle che sono anche gli attriti interni a Sulmona, Gerosolimo vince con la sua candidata e dice il vero nemico dei Democrat sono loro stessi. A volte è così. Io personalmente non avendo seguito anche le vicende diciamo oltre la mia provincia, non voglio esprimere un parere anche sulle vicende di Sulmona. So che a volte il Partito Democratico si diverte a farsi del male, però è anche vero che lì dove c'è il confronto vero, il confronto vivo, come accade ad esempio nella nostra provincia, nonostante ci siano differenze di vedute, alla fine la sintesi è poi quella che porta al risultato e alla vittoria incredibile che abbiamo avuto. Francavilla era a rischio, un anno fa era a rischio, era in forze la ricandidatura e l'appoggio del PD a Luciani. E poi che è successo? È successo quello che appunto ti dicevo poc'anzi, ci siamo messi a tavolino, abbiamo ragionato tutti quanti insieme, ci siamo confrontati anche in maniera aspra e alla fine il risultato del PD è stato quello che avete visto e sotto gli occhi di tutti. Oggi c'è una compagine governativa insieme ad Antonio che è un sindaco straordinario, fatto di tanti giovani, di tanto rinnovamento che guarda al futuro in maniera serena. E lasciamo la pagina dedicata alle elezioni amministrative, cambiamo argomento. Tra le proteste dei familiari delle vittime il processo a carico di Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile italiana, è stato aggiornato al primo di luglio, processo a forte rischio prescrizione. Bertolaso neanche oggi è stato presente in aula. Tra i test l'ex capo della protezione civile Zamberletti, il servizio di Daniela Rosone. Rinvio al primo luglio del processo a Guido Bertolaso e polemiche da parte dei familiari delle vittime anche oggi presenti in aula per il rischio prescrizione. Lui invece, Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile, non c'era neanche oggi per l'udienza del processo che lo vede imputato per omicidio colposo plurimo in relazione alla convocazione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo del 2009. Bertolaso, secondo l'accusa, sarebbe colui che avrebbe ispirato i contenuti rassicuranti della conferenza stampa successiva alla riunione della Commissione, secondo l'accusa. Tra i testimoni ascoltati oggi in udienza, Giuseppe Zamberletti, ex ministro, ritenuto il padre fondatore della moderna protezione civile, ex capo della protezione civile nazionale, che ha risposto alle domande degli avvocati, chiarendo anche che una conferenza stampa per lui non tranquillizza mai, ma riporta semplicemente i contenuti di ciò che è accaduto. L'ex ministro ha anche ricordato il caso della Garfagnana, dove fu diramato l'allarme. Ancora oggi difende quella scelta, dicendo che c'erano elementi precisi per farlo. Sono andato a rispondere in aula su questi temi, sarebbe scorretto nei confronti del tribunale rispondere. Ho terminato adesso la mia deposizione, la mia deposizione e i depositori di tutti. Si è parlato ancora una volta in aula oggi della teoria, secondo la quale uno sciame sismico prolungato scaricherebbe l'energia impedendo una scossa più forte. Per Zamberletti questa teoria non è più sostenibile. Lo era nel 2009, allora? Gli hanno chiesto i cronisti? È uguale, è uguale. L'ho sempre sostenuta perché in friù li ho provato il contrario. Dopo di lui è stata la volta di Titti Postiglione, responsabile della Sala Operativa Nazionale della Protezione Civile. La testa si è soffermata sul contenuto di un comunicato stampa rilasciato dalla Protezione Civile regionale e poi ha parlato anche delle previsioni del tecnico del Radon, Giampaolo Giuliani. La Postiglione ha anche spiegato che lo scarico di energia inteso in senso positivo è la tesi usata anche per altri terremoti, ma che non può essere usato come fattore esclusivo. Nessuno ha detto, ha mai sostenuto che l'esistenza della sequenza non implicasse la possibilità di un evento principale più forte. Non c'erano segnali che potevano far presagire una grande scossa, ma non si poteva neanche escludere una grande scossa. Da geologa non condivide, ha detto la teoria dello scarico di energia, ma in Dipartimento la tesi era stata già sostenuta dai tecnici. La nostra, ha chiarito ancora, non è una struttura tecnico-scientifica, per cui noi discutevamo di ciò che proveniva da altri ambienti scientifici, per cui le NGV in prima battuta. Ci siamo posti il problema se lo sciame fosse da interpretare positivamente oppure no, per cui abbiamo richiesto la convocazione della Commissione di Esperti Scientifici. I carabinieri del NAS di Pescara hanno condotto una cinquantina di ispezioni in altrettante palestre del capoluogo adriatico che hanno permesso di individuare personale non qualificato sia nella direzione tecnica che nelle attività di estetista, oltre a carenze strutturali o autorizzative alla luce dei controlli, sono state inoltrate alle autorità comunali e sanitaria sei proposte di sospensione dell'attività. Per quanto riguarda invece le sanzioni che sono derivate dai controlli, per le violazioni contestate ammontano a circa 20 mila euro i controlli del NAS, oltre a far emergere alcuni casi di abusivismo, hanno rappresentato una risposta ad alcune segnalazioni di presunte carenze arrivate ai carabinieri dai genitori di giovanissimi frequentatori delle palestre. Adesso parliamo di aeroporto. Giuste le osservazioni riportate dalla Corte dei Conti rispetto alla ricapitalizzazione dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo. Il consigliere regionale delegato ai trasporti, Camillo D'Alessandro, però spiega come sarà possibile comunque mettere in salvo una delle infrastrutture più importanti della regione. Ancora opposizioni all'attacco sul caso aeroporto d'Abruzzo, ancora dubbi sul futuro economico dell'infrastruttura e su tutti i comparti direttamente e indirettamente interessati. Ma la battaglia per riconquistare i collegamenti con Alitalia e Ryanair prosegue. Ma io non so quale opposizione attacca, se è quella che è scomparsa, se è quella che ha perso in Abruzzo, che forse non gli conviene proprio tanto attaccare. Non gli conviene entrare nel merito perché poi i cittadini capiscono. Allora noi stiamo facendo un lavoro serio che sta dentro la cornice della legislazione europea. Mentre cerchiamo di modificarla e di cambiarla, dobbiamo essere coerenti con i nostri stanziamenti. È pronta nelle prossime settimane una variazione di bilancio che consente il rifinanziamento dell'aeroporto. Noi in questa legislatura abbiamo fatto due leggi, una di aumento di capitale sociale, l'altra di contributo alle spese di funzionamento. E entrambe non sono state impugnate perché dentro il piano industriale che poi ci chiede la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale. E così prosegueremo e andremo avanti. Nel frattempo, dentro questo mese, lavoriamo affinché sia il più possibile certo l'abbassamento delle tasse, avremo un nuovo incontro con Ryanair. A mettere benzina sul fuoco poi c'era stato anche il Movimento 5 Stelle che aveva presentato l'osservazione della Corte dei Conti sul caso ricapitalizzazione aeroporto, accusando la Regione di gestione dissennata. Ma la Corte dei Conti ha posto dei temi, a mio giudizio legittimi, ricostruendo l'iter legislativo che da anni, da più legislature, passa attraverso il Consiglio regionale, ma nel caso di specie di una ricapitalizzazione o tu la fai o l'aeroporto chiude. Il punto qual è? Che la ricapitalizzazione non deve essere di fatto finalizzata a finanziare poi, per esempio, una compagnia aerea qualunque essa sia. Ed ecco perché noi ci siamo dotati di un piano industriale e del calcolo che l'Europa ci consente di contribuzione pubblica nei limiti di ciò che non è aiuto di Stato e su questo stiamo andando avanti. Ed ora la situazione del mare a Pescara. Mentre proseguono le polemiche fra associazioni comuni e ambientalisti sugli ultimi dati relativi all'inquinamento, siamo andati ad ascoltare il direttore dell'Arta, Mario Micone, che spiega anche il perché del peggioramento in alcuni punti della città di Pescara. Paolo Lorenzetti. L'Arta emana e pubblica i dati ufficiali delle analisi fatte su quei cambiamenti fatti in quei giorni, in quei punti indicati precedentemente dal Ministero dell'Ambiente, della Salute e dalla Regione. È chiaro che le analisi non sono mai tutte uguali. Le stesse analisi del sangue che ognuno di noi fa nei laboratori clinici se uno va tutti i giorni non è che esce sempre lo stesso risultato. Quella delle acque risente di vari fattori climatici, la pioggia, i fiumi, i depuratori, risente una serie di fattori che quindi variano da giorno a giorno. Le corrende marine che spostano le acque dolce e le acque salate si mischiano di più in caso di temporale o di mare mosso. È chiaro che le analisi fatte con un mare dormiente danno risultati e quelle fatte con un mare mosso ne danno un'altra perché matrici inguinanti al mare arrivano dai fiumi e quindi vengono a galla. Chi si meraviglia dell'alternarsi di risultati un giorno buoni e un giorno non buoni evidentemente non conosce né ha intenzione di sapere né vuole sentire le ragioni per cui i dati variano da giorno a giorno. Gli ultimi rilievi fatti sono peggiorati perché sono stati fatti analisi a ridosso di un temporale. Purtroppo non c'è, c'è una regola che dice che l'analisi di campionamento non bisogna farlo quando è impossibile seguirli perché con un mare mosso, con un temporale in corsa però entro le 48 ore successivi bisogna fare il campionamento ma è ovvio che quel mare risente del movimento del giorno precedente. Sarà comunque un'estate con alcuni divieti a Pescara, ormai ci sarà poco da fare? Sì, ci sono dei punti critici da sempre dove i risultati sono ballerini ma che la gente sa, i balneatori sanno, dei nudi che criticano i risultati che è l'arta pubblica. L'arta è quello che misura la febbre del mare, in questo caso dell'acqua. Poi la cura, l'adeganza e la cura spetta da altri enti, comune, province, regione che non è l'arte che ripete, misura la febbre facendo l'analisi dei campioni di acqua prelevati. Ed ora la sanità sul caso del riordino della rete emergenza urgenza e più in generale del piano sanitario regionale l'assessore Silvio Paolucci afferma che le polemiche dell'opposizione sono state smentite dai risultati delle recenti elezioni e testimoniano la fiducia nel lavoro della regione Abruzzo. Rete emergenza urgenza continua ad essere al centro dell'attenzione dell'opposizione e dice che tutte quelle che erano state le promesse elettorali in realtà hanno portato in decisione e in sicurezza nei cittadini perché il rischio sarà quello di avere pochi ospedali e altre strutture che invece non saranno a disposizione e soprattutto non potranno essere efficienti. Totalmente falso, tant'è vero che i cittadini hanno premiato il PD. Sì, se fosse vero a tutta quella strumentalizzazione attorno alla sanità noi non avremmo vinto in otto dei nove comuni dove si è pure votato e vi era una struttura sanitaria ospedaliera. E dunque tutto il contrario, tant'è vero che il Ministero indica che per la prima volta nella storia di questa regione sui livelli essenziali dell'assistenza la regione Abruzzo ha avuto non solo la piena adempienza negli ultimi dati ma ha visto anche una proiezione ancora migliore e positiva per la prossima. I livelli essenziali dell'assistenza hanno a che fare con la vita e la salute delle persone. Alcuni esempi, noi miglioriamo molto sulla prevenzione ovvero sulla prevenzione abbiamo salvato centinaia di vite umane. Noi abbiamo lavorato molto sulle postazioni del 118 soltanto nell'area Sangro e Laventino abbiamo salvato 90 vite e questo vuol dire avere i LEA migliorati. Se c'è un tema, il tema vero sono i tempi d'attesa e sono tutto ciò che ha a che fare con la diagnostica ed è un grande problema nazionale sul quale l'Abruzzo deve aggiungere e fare qualcosa in più. Qualche novità sulle strutture ospedaliere? Si parla di Chieti, si è parlato anche del San Salvatore ci sono anche lì delle polemiche e in questo caso ci saranno novità. Polemiche forse attorno alla programmazione ma mi sembra che sia stata una programmazione concordata è davvero singolare che trovo alcune polemiche anche all'interno del Partito Democratico ma per esempio il sindacato ha sostanzialmente approvato il piano lo stesso sindacato dei medici non ci sono state dalle categorie prese di posizione sanno cosa prevede la legge se poi vogliamo raccontare del dia di secondo livello il dia di secondo livello si fa quando cardiochirurgia e neurochirurgia stanno insieme chi parla dovrebbe dire se spostare la neurochirurgia toglierla all'Aquila per portarla a Teramo la strocca di secondo livello oppure togliere la cardiochirurgia di Teramo e portarla all'Aquila allora si fa una proposta seria e non ho sentito questo perché è troppo semplice dire risolvere l'idea di secondo livello pur sapendo cosa c'è dietro è il problema dell'assessore Paolucci non è così Andiamo a Teramo si sono svolti questa mattina i funerali di Pietro D'Ignazio ex sindaco della città dall'85 al 93 D'Ignazio 88 anni è morto ieri mattina all'ospedale Mazzini dopo una lunga malattia Edisa Leuzzo Amici, parenti e quasi tutti i rappresentanti delle istituzioni locali hanno tributato l'estremo saluto all'ex sindaco della città di Teramo Pietro D'Ignazio primo cittadino dall'85 al 93 D'Ignazio aveva 88 anni il ricordo affidato alle parole dell'ex governatore Gianni Chiodi è stato un sindaco per otto anni della nostra città in un momento particolarissimo diciamo sì prima repubblica come molti raccontano quindi con tutti i riti e con tutte le formalità che nella prima repubblica ti potevano portare a diventare sindaco ma in un consiglio comunale che per la prima volta aveva gente come Pannella come la Scucci Marra Mazzitti personalità Bettini voglio dire personalità completamente nuove di grandissima qualità che erano l'opposizione di allora non era più l'opposizione del partito comunista quindi la scuola del partito comunista quella comunque scondata insomma che si sapeva come si atteggiava questa era un'opposizione nuova un po' come quella situazione oggi dei grillini che è completamente un po' diversa non si sa bene parliamo di personalità che comunque esprimevano contenuti oltre che capacità di opposizione e di dialettica e Pietro Lignanzio era il sindaco che doveva contrastare queste situazioni e lo faceva con le sue caratteristiche un uomo serio persona onesta molto spiritosa molto umana ed erano le caratteristiche che poi lo portavano a avere un buon consenso elettorale era l'uomo che riusciva evidentemente a cucire le varie anime della democrazia cristiana ad essere una persona accettabile per le sue qualità poi il padre di Giorgio Lignanzio io all'epoca quasi frequentavo ovviamente il figlio piuttosto che il padre e Giorgio ha delle caratteristiche che lo fanno ricordare il padre una persona umile modesta però un grande lavoratore della politica e affidabile e molto umana queste le caratteristiche fondamentali che oggi gli vengono riconosciute sempre a Teramo il coordinamento comunale provinciale di Selle chiama a raccolta le istituzioni vista la situazione politica interna al comune per una sinistra italiana contro il sindaco Maurizio Brucchi Anche Sinistra Ecologia e Libertà interviene sulla situazione politica teramana in che termini? Noi qualche mese fa abbiamo rinnovato i quadri dirigenti del partito perché il nostro partito era sostanzialmente bloccato su alcune questioni di fondo e abbiamo subito lanciato un appello alle forze alternative di sinistra della città per costituire un coordinamento stabile tra queste e rilanciare l'opposizione al sindaco Brucchi all'amministrazione guidata dal centro-destra ma anche a un PD che sostanzialmente non fa posizione è contaminato e attraversato da guerre per bande interne che a volte cercano anche un accordo con alcuni pezzi importanti del centro-destra abbiamo lanciato questo appello anche al PD per iniziare un ragionamento insieme su come opporsi a questa amministrazione non è stato raccolto però qualcosa si sta muovendo perché di pochi giorni fa la notizia dell'adesione di prospettiva comune alla nostra proposta di costituire un tavolo unico delle sinistre alternative in città per lanciare ulteriormente un appello alle forze politiche sociali sindacali della città che ci sono ma che sono attualmente sparse e senza un coordinamento per aggregarsi anche a questo appello e per costituire un tavolo permanente di confronto a parte le problematiche che oggi mettete in evidenza sulla situazione politica a Teramo affermate anche che non esiste un'opposizione di fatto comunque non abbiamo ancora un progetto di alternativa non soltanto una carenza diciamo dal punto di vista dell'opposizione consigliare il punto è che non c'è un cantiere aperto di quello che una volta si chiamava centrosinistra perché di fatto da livello nazionale in poi quella formula ormai è consunta comunque difficile ancora da ritenere come una novità rispetto al panorama e quindi dobbiamo assolutamente porci un sistema di alternativa rispetto a tutto il sistema politico le stesse amministrative ce lo dicono vengono premiati i progetti di alternativa e non i progetti di conservazione restiamo ancora a Teramo perché l'associazione carrozzine determinate torna a chiedere all'amministrazione comunale l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti in città dopo il consiglio comunale straordinario che si è tenuto a fine dello scorso anno in cui c'era stata la promessa dell'amministrazione di intervenire sentiamo dopo la conferenza stampa di carrozzine determinate con il coinvolgimento dei giornalisti e anche dell'amministrazione comunale di Teramo continuano ad esserci le barriere architettoniche i tempi sono scaduti manifestazione a novembre e poi il consiglio comunale nel mese di dicembre sono passati sette mesi peggio di una gravidanza sì purtroppo le tue parole sono quanto mai veritiere sono passati sette mesi il consiglio comunale in cui si è approvata una delibera con delle scadenze delle tempistiche certe c'è stato il 3 dicembre del 2015 le passeggiate empatiche con il consigliere comunale con i giornalisti 4 e 11 novembre quindi parliamo di sette mesi dopo sette mesi nulla è ancora nulla non si è fatto nulla di tutte le promesse non solo se vi ricordate le parole delle 4 dell'11 novembre c'è ancora molto da fare perché salire su una carrozzina e cimentarsi con le asprità del territorio della città ti fa capire che quello che hai fatto è ancora poco e allora bisogna fare di più oltre le parole perché ovviamente magari come dicevano i latini verba volant ascripta manent c'è una delibera e quindi c'è un atto con una delibera del consiglio comunale del 3 dicembre 2015 con una serie di punti che si devono fare non si è fatto nulla si è fatto semplicemente l'approvazione del PEBA che ovviamente il PEBA però l'approvazione è un'approvazione di un modello quindi non è calato assolutamente nel comune di Teramo se non gli dai un seguito se non si mettono fondi sul PEBA assolutamente il PEBA quindi il piano per l'eliminazione delle beretchiettoniche non serve a nulla questo è quanto accade a Teramo nelle altre città invece qualcosa si è mosso per esempio a Pescara? per esempio nelle altre città invece qualcosa si è mosso ad esempio ecco prendo spunto per questa domanda a Pescara stanno per approvare stanno per apportare una piccola modifica per il quale gli esercizi commerciali non pagheranno l'occupazione del suo pubblico se metteranno all'interno del loro esercizio commerciale una pedana per favorire l'accessibilità dell'esercizio commerciale l'amministrazione comunale potrebbe quantomeno iniziare con questa piccola modifica e fare questa piccola iniziativa a favore della disabilità all'interno del comune di Teramo e cercare di non essere nella cenerentola d'Abruzzo per quanto riguarda le barriere architettoniche Adesso apriamo la pagina dello sport partiamo dal Pescara poche ore ancora e sapremo dove giocherà il prossimo anno Gianluca Lapadula a Napoli andranno anche Caprari e Zampano intanto il Pescara stringe per Biraghi dell'Inter il servizio di Jacopo Forcella Poche ore ancora e Gianluca Lapadula saluterà il Pescara siamo arrivati all'epilogo di un lungo tira e molla che ha visto la società biancazzurra far fronte a tantissime richieste anche fuori dall'Italia a meno di clamorosi colpi di scena però che nel calcio mercato non rappresentano certo una rarità l'attaccante biancazzurro finirà al Napoli il 26enne bomber torinese ha infatti sciolto le riserve e accettato un contratto di 5 anni a 800.000 euro a stagione in campagna oltre a Gianluca Caprari che resterebbe però un altro anno in riva all'Adriatico dovrebbe essere inserito anche l'esterno Francesco Zampano anche lui farà un altro anno in biancazzurro mentre i partenopei potrebbero girare in prestito il centrocampista Grassi prelevato dal Napoli a gennaio dall'Atalanta ma condizionato da un infortunio il Pescara incasserebbe da questa tripla cessione poco meno di 15 milioni di euro contando però ancora per un anno su Caprari e Zampano fortemente voluti da Otto si diceva delle sorprese perché Sassuolo tramite la Juventus e il Genoa non demordono il Pescara dopo aver riscattato Verre dall'Udinese che però farà valere il contro riscatto si siederà a tavolino con i friulani per ottenere il nuovo prestito per uno dei pallini del tecnico per la difesa c'è sempre i biraghi dell'Inter in alternativa a Delia del Vicenza per l'attacco Trotta e Monachello sul fronte portieri bizzarri 38enne l'anno scorso al Chievo ingradito dal tecnico biancazzurro voci vorrebbero il Pescara interessato a Beriscia estremo difensore dell'Albania e della Lazio in uscita dal Pescara per Rotta che tornato al Teramo verrà girato il giovane ventola piace alla San Benedettese Carcalis e Altobelli al Teramo e un'altra notizia che in qualche modo riguarda il Pescara e la città di Pescara perché il Crotone giocherà nello stadio Adriatico nel caso Lezio Scida non dovesse essere pronto per l'inizio del campionato di Serie A quanto ha comunicato il presidente del Crotone Raffaele Vrenna alla Lega di Serie A ieri termine ultimo per comunicare la sede delle gare casalinghe Vrenna ha depositato in commissione criteri infrastrutturali e sportivi organizzativi la documentazione che prova la licenza d'uso per l'eventuale utilizzo dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara e scendiamo in Lega Pro in casa Lanciano si attende di definire chi sarà il prossimo allenatore l'uomo che dovrà costruire la squadra Pancaro o Matteo Materazzi sono gli indiziati principali intanto in casa Teramo si continua a lavorare tra conferme partenze ed arrivi in casa Virtus Lanciano il primo vero problema per la prossima stagione è riorganizzarsi innanzitutto con la gestione tecnica sì perché con Leone in partenza a direzione Pescara e Maragliulo che dopo la retrocessione non sarà riconfermato le grane sono quelle di trovare un nuovo tecnico e una figura che possa costruire la squadra per la Lega Pro voci sempre più insistenti vorrebbero Giuseppe Pancaro ex difensore di Lazio e Milan al timone dei rossoneri frentani per il momento è lui l'indiziato altro bisogna fare anche alla svelta perché la coda play out ha allungato la stagione del Lanciano e tra poco si ripartirà per la nuova Pancaro in pole per la panchina Matteo Materazzi in pole per la poltrona non di direttore sportivo ma di consulente di mercato o responsabile dell'area tecnica visto che il fratello dell'ex Inter è anche agente FIFA e rappresentante di giocatori Pancaro che nell'ultima stagione è stato alla guida del Catania prima di essere avvicendato con Moriero farebbe il percorso inverso rispetto a Roberto D'Aversa che dovrebbe essere il prossimo allenatore dei rossazzurri D'Aversa si deve liberare dal Lanciano rispetto ad un impegno in scadenza nel 2017 ma non ci saranno intoppi dopodiché firmerà un contratto biennale in Casateramo invece i nomi caldi sono quelli di Croce per l'attacco e Peterman per il centrocampo la punta trentenne è ad un passo e sembra aver sbaragliato la concorrenza di Guidone e Arrighini mentre il mediano di proprietà del Palermo è pronto per essere girato in prestito in bianco-rosso da valutare ancora le situazioni legate a Tonti, Scipioni e Amadio destinati ad andare in altri lidi intanto nelle prossime ore ci sarà l'ufficialità del prolungamento di contratto dell'esterno Tommaso Dorazio ed è tutto per questa prima edizione del TG6 i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono alle ore 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata grazie per la visione Grazie a tutti.